Eccoci qua amici, bentrovati sul canale, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un like se ne avete voglia e soprattutto interagite affinché questo contenuto possa essere molto più interessante con le vostre considerazioni, con i vostri approfondimenti. E' un contenuto che voglio dedicare alle due situazioni di mercato più importanti di questo momento storico dell'estate bianconera. Mi riferisco al centrocampista e al difensore, due situazioni che la Juventus vuole risolvere entro fine mese. Abbiamo dunque una deadline rispetto alle prossime mosse di mercato e sappiamo anche che prima di ragionare in entrata dobbiamo inevitabilmente seguire le traiettorie in uscita dal momento che la Juventus può solo in questo modo andare a muovere le acque. Io credo i due giovani che possano avere più mercato in questo momento siano Hausen e Sule. Poi insomma nelle prossime ore vi dirò anche delle altre cose sul loro conto ma se rimaniamo sul mercato io credo la cessione di Hausen possa in qualche modo andare a pagare tra virgolette l'ingresso di Todiboh. Ieri i contatti tra Juventus e Nizza sono stati molto intensi. Si lavora soprattutto sulla formula oltre che sulla richiesta economica con la Juventus che spera di risparmiare ancora qualcosina rispetto alla richiesta di 35 milioni del club francese che al momento si dà anche l'apertura per prendere in considerazione qualche contropartita tecnica. Si fa il nome di Nunge mentre Muaremovic ve ne avevo già parlato qualche giorno fa credo in questo momento sia più da considerare in orbita a Genoa. In ogni caso il Nizza avanza una richiesta importante per cedere Todiboh anche se vuole comunque dar seguito alla volontà del calciatore che si è già promesso alla Juventus avendo anche un accordo di massima sull'ingaggio. Perché il Nizza oggi si trova in una posizione un po' più debole rispetto al calciatore? Perché io credo insomma il club francese abbia messo le cose in chiaro col diretto interessato sulla necessità di cederlo in questa estate di mercato. Qualche settimana fa sembrava fatta per il trasferimento al Manchester United stessa proprietà la UEFA ha bloccato tutto anche perché i due club vanno a giocare la stessa competizione europea. Poi a un certo punto sembrava potesse esserci il West Ham il Nizza è andato un po' troppo oltre con la richiesta economica insomma l'operazione è saltata e a quel punto Todiboh che vuole in fretta trovare la sua nuova collocazione ha indirizzato adesso i dialoghi tra Juventus e Nizza. Io credo questo sia un aspetto molto interessante riguardo questo tavolo di mercato perché avendo la volontà del calciatore dalla prima parte la Juventus anche nel caso di Todiboh si mette insomma a discutere un po' con quella forza che aveva fatto la differenza nella prima operazione di quest'estate tra Nizza e il club bianconero ovvero Turam. Fu Turam a indirizzare l'operazione con la Juventus potrebbe essere appunto Todiboh a indirizzare l'operazione tra Nizza e Juventus. Perché Todiboh? Perché io credo la Juventus abbia in mente di andare a rivisitare completamente le gerarchie e le caratteristiche a disposizione dell'allenatore nel reparto difensivo. Perché Todiboh è un giocatore completamente diverso a Calafiori non è una conseguenza. Io credo semplicemente la Juventus abbia individuato nel francese l'erede di Bremer nel caso in cui il brasiliano possa ricevere una max offerta o in questo mercato estivo quindi 2024 non possiamo escludere che da qui a fine mese possa arrivare un'offerta vicina alla clausola che il calciatore avrà a partire dall'estate 2025 tra i 60 e 70 milioni in quel caso la Juventus avrà anche poco potere di trattativa dal momento che c'è una clausola sul cartellino del calciatore però arrivasse quell'offerta lì in quest'estate io credo la Juventus si ritroverebbe anche quasi costretta a prenderla in considerazione e quindi insomma non escludo il colpo di scena. Al momento è solo una suggestione Bremer è dentro il progetto di Tiago Motta ma ritengo anche insomma Todibo possa aumentare le caratteristiche a disposizione dell'allenatore in una linea difensiva che cambierà tanto e nei concetti e soprattutto nelle gerarchie. E in uscita Rugani abbiamo un po' seguito i colloqui che il suo agente ha tenuto con Bologna in attesa di aprire un dialogo con l'Atalanta c'è stato solo qualche sondaggio in attesa di capire come si andranno a evolvere eventualmente quei sondaggi che ci sono stati dalla rabbia saudita. Rugani è in uscita capiremo anche qui quali saranno le traiettorie da seguire così come dobbiamo fare molta attenzione ad Ausen che non sembra rientrare nei progetti della Juve almeno nell'immediato la Juventus lo avrebbe ceduto in prestito per un anno il ragazzo vuole invece trovare una collocazione fissa da subito ed è il motivo per cui la Juventus sta trovando le condizioni per cederlo. Io credo dalla cessione di Ausen possano arrivare le risorse per Todiboh come vi dicevo prima credo invece dalla cessione di Sule che potrebbe avvicinarsi la Juventus possa invece avere le condizioni minime per andare ad aprire i dialoghi finalmente con l'Atalanta anche qui devo dirvi una cosa io non credo il centrocampista olandese voglia andare oltre la fine di questo mese per trasferirsi sotto la mole ha già deciso da tempo che la Juventus sarà la sua prossima destinazione al di là delle parole della presidenza dell'Atalanta io credo insomma Copp Miners sia un giocatore destinato alla Juventus però adesso tocca al club bianconero muoversi e muoversi nella giusta direzione e soprattutto nei giusti tempi perché mi sembrerebbe strano che la Juventus andasse poi a trovare disponibilità una grande disponibilità nel calciatore nel mese di agosto adesso Copp Miners vuole davvero concretizzare questo trasferimento in bianconero avendo scelto la Juventus anche di fronte a sondaggi importanti che ci sono stati soprattutto dalla Premier League Copp Miners ha rimbalzato anche un sondaggio del Liverpool che tra l'altro è da tenere d'occhio in chiave Rabiot Copp Miners vuole la Juve perché ve l'ho già raccontato tante volte la ritiene la destinazione più giusta, la tappa più giusta per questo momento della sua carriera e io ritengo questo sia molto significativo però credo anche serva adesso indirizzare il tutto nei tempi corretti e i tempi corretti sono questi giorni qua questa settimana al massimo o la prossima però insomma entro fine mese credo la Juve debba per forza aprire la trattativa con l'Atalanta per fare entrare nel vivo l'operazione Copp Miners e regalare a quel punto a Tiago Motta il terzo centrocampista per rivisiatare completamente il reparto mediano e obiettivamente il valore ai Copp Miners potrebbe davvero alzare tantissimo l'asticella Sule, la situazione non è cambiata nelle ultime ore adesso la Juventus aspetta semplicemente il primo club disposto a rilanciare definitivamente per l'argentino è vero la Roma ha fatto un rilancio ha migliorato leggermente le condizioni dell'Eister ma nessun club per adesso garantisce quei 30 milioni sotto i quali la Juventus non è disposta a scendere non solo il club bianconero vuole 35 milioni in complessivo 30 garantiti 5 di bonus sotto questa cifra non si scende per Sule e quindi si aspetta semplicemente che un club faccia un passo in avanti definitivo affinché possa chiudere il cerchio sul classe 2003 argentino che ricordiamocelo Tiago Motta avrebbe voluto tenere in organico Giuntoli aveva anche promesso la permanenza in assenza di un'offerta congrua ecco perché la Juventus non scende sotto quelle condizioni l'offerta congrua veniva ritenuta attorno ai 35-40 milioni se arriva un'offerta che tocca la quota di 35-40 milioni ripeto 35 tra parte fisse e variabile allora sulle parte e in questo momento insomma il calciatore sembrerebbe davvero vicino ai saluti rispetto alla sua posizione di qualche settimana fa in cui sembrava invece più dentro il progetto stagionale della Juventus detto ciò però adesso i tempi qui sono a dettarli gli altri oggi Sule è un giocatore della Juventus tant'è che parte per questa settimana di ritiro in Germania tra l'altro sarò lì avrò l'opportunità di raccontarvela momento per momento e dunque facciamo così io parto parto ci rivediamo nei prossimi contenuti magari già in Germania prima di salutarvi e di fare strada vi chiedo di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanella delle notifiche